Non sono armata! Giornalista! Americhè! Signore e signori, corrispondente di guerra dell'anno, Mary Colvin. Dove hai preso quella benda da pirata? Sull'isola del Tesoro. Mi serve un bravo fotografo. Ne conosci uno? Il migliore. Ci penso continuamente. Se non sei pazzo, non ti abitui mai a tutto questo. La guerra non è così terribile per chi governa. Non viene ferito o ucciso come la gente comune. La nostra missione è dire la verità ai potenti. È pronto a trascinare il suo paese in una guerra civile? Odio trovarmi nelle zone di guerra, ma mi sento costretta a vederla con i miei occhi. Perché ne sei dipendente? Nessuno sano di mente farebbe quello che fai tu. Deve andarsene subito da lì. Tutti devono conoscere la tua storia. Tu hai il grande dono di riuscire a far riflettere le persone. All'essere vivi! Lo so io! Non serve che tu lo sappia! Se non ci credi neanche tu... A noi che speranze rimangono? Forse avrei potuto scegliere una vita normale. Forse non ne sono capace. E' a un po' così di... E' a un po' così di sc 여기서 è capace. Grazie a tutti.